Ciao a tutti amici, bentornati su Dite la Vostra che io dico la mia. Kamala Harris ha già perso? A mio giudizio sì, ma ci sono molti segnali che mi fanno credere che il suo staff non creda più nella vittoria alle presidenziali americane che ci saranno nel prossimo novembre proprio di Kamala Harris. In primis l'ultima intervista rilasciata a Fox, emittente notoriamente vicino al mondo repubblicano e quindi già questo vuol dire tanto, Kamala è in difficoltà e cerca addirittura qualche voto in campo nemico. Ma in questa intervista ha preso le distanze dall'amministrazione Biden, ricordiamola, lei è ancora la vicepresidente in carica dell'amministrazione Biden, insomma ha detto se divento presidente sostanzialmente sarà in discontinuità con l'amministrazione di Biden, quasi a volerne prendere le distanze, perché evidentemente tutti i dati in mano allo staff della campagna della Harris dicono la stessa cosa, sta perdendo, deve cercare di recuperare, ma non è a mio giudizio prendendo le distanze da Biden che potrà cambiare le proprie sorti, anzi essendo stata la vicepresidente fino ad oggi forse avrebbe dovuto osare il contrario, ossia fare propri i risultati dell'amministrazione uscente. Secondo me la sconfitta è ormai inevitabile e la prossima amministrazione americana sarà a guida Trump, una vittoria di Trump ovviamente determinerebbe i cambi degli equilibri mondiali. Staremo a vedere se la mia previsione è giusta, di certo la sensazione è quella, i dati nei sondaggi anche e le ultime uscite della Harris sono lì a dimostrare che probabilmente si dà già per sconfitta. Vedremo come andrà a finire, voi dite la vostra nei commenti e ci vediamo domani.